Nel farnesignano, il gergo in uso all'interno della farnesina, è possibile imbattersi in termini che assumono un significato distante da quello originale. È il caso di periplo, termine di origine greca che descrive la circonnavigazione di un'isola o di un continente. Il significato che però il farnesignano attribuisce a periplo è diverso. Con questo termine si soliti riferirsi ad un viaggio istituzionale in più paesi della stessa regione intrapreso dal ministro. Un viaggio ricco di incontri e di impegni con le controparti straniere. Un vero e proprio periplo diplomatico.